E allora ci riposa la marina di dare un giardiniello con le corosate E di dare un giardiniello con le corosate E allora ci riposa la marina di dare un giardiniello con le corosate E allora ci riposa la marina di dare un giardiniello con le corosate E allora ci riposa la marina di dare un giardiniello con le corosate E allora ci riposa la marina di dare un giardiniello con le corosate Grazie a tutti. 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 Ormai siamo al penultimo giorno della festa del Catuozzo, seconda festa 2011. Siamo nei preparativi anche del pranzo sul campo, tra virgolette, come si vuol dire il pane fatto dal forno, quindi pane d'altri tempi. Specifichiamo per cortesia il pane come è stato fatto? Dopo il forno. Dopo la braccia siamo passati alle pizzette fritte. Sì, è un certo film. Grazie a tutti Grazie a tutti